Ancora problemi per le scale mobili, abbiamo effettuato un controllo in quanto c'è uno dei passamano della prima scala, come vi stiamo indicando, la prima scala uscendo dal duomo e andando verso il parcheggio, vi consigliamo di appoggiare le mani sul passamano vicino al muro, quello di destra, perché quello di sinistra ha un piccolo problema, che però può diventare anche un problema abbastanza serio, di fatti il passamano si è rovinato nonostante sia stato cambiato da poco ancora un'altra volta e quindi presenta ovviamente dei problemi che potrebbero portare anche ad avere dei seri problemi, qualora si dovesse rovinare provvisamente, quindi vi ricordiamo quando scendete da Piazza della Libertà, quindi dal duomo, dal comune, dalla provincia e andate verso il parcheggio di Via Pietri, vi raccomandiamo di utilizzare naturalmente il passamano di destra, quello accanto al muro, quello di sinistra come vi facciamo vedere dalle immagini, purtroppo si è rovinato ancora un'altra volta, per cui anche se ne avvertitamente per il momento non ci sono gravissimi pericoli, anche se riteniamo che l'assessore Dringoli, l'assessore della manutenzione, prenderà quanto prima una velocissima decisione in quanto che quando ci sono questi tipi di problemi normalmente le aziende di manutenzione bloccano le scale fino a che non viene ovviamente rifatto, questo è nel particolare come si presenta la cosa, quindi mi raccomando tutti sulla destra.